Doveva essere un lavoro semplice. Stiamo per chiudere. Mi chiamo Dora. Il mio nome è Ines. E avrebbe cambiato completamente le nostre vite. Vai, vai, vai! Dimmi, Dora, che cosa fai per vivere? Sono un hacker. Come il neurochip che avevamo rubato. Sei come pensavo che fossi. Beth. Cambierà il mondo così come lo conosciamo? Tutto questo ci ha condotte su un sentiero oscuro, quanto il rifugio che abbiamo trovato sul Dark Web. Ci siamo. Proprio come a Barcellona. Come un buco nero. Nessuno davvero sa che cosa c'è dall'altra parte. Chi c'è laggiù? C'è un uomo nel bosco. Lui ci sta spiando da un bel po' Dora. L'ho seguito prima. È andato in un posto che è l'identica copia di questo. È stato qui. Che cosa vuoi fare? Quello che facciamo sempre. Tu attiralo nel bosco. Da solo in questo bosco, dove nessuno può sentirti per chilometri. Guarda qui. Ce n'è un sacco. Questo non è un gioco. Andiamocene. Dora. Dora. Non stai pensando in modo lucido. Vista. Non stai pensando in modo lucido. Non stai pensando in modo lucido. Non stai pensando in modo lucido. Perché hai mandato tutta puttanea? Grazie a tutti.